Finalmente si parte, mi riferisco alle primarie, non c'è da rotta mare, c'è da darsi una missione e la missione è quella di rifondare un centrodestra italiano moderno e vincente e con loro sarà una bella gara di idee che farà rinascere la più grande area politica del nostro paese. Gente che ama la gente, che non prova invidia, che odiare non sa, gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà, che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende e che non si arrenderà, che lotta sempre per la verità, è questo il popolo della libertà. Grande è il sogno che ci unisce, un sogno grande che si realizzerà, grande è la forza che ci diamo, la forza che ci dice che benedicerà per sempre. Grande è la voglia di luttare, la voglia di cambiare, l'Italia che verrà, noi siamo il popolo della libertà. Gente che ama e che lotta, che spera e che crede nella libertà, gente che tende la mano, che guarda lontano, che guarda lontano, che resisterà, che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende e non si arrenderà, che lotta sempre per la verità, è questo il popolo della libertà. Grande è il sogno che ci unisce, un sogno grande che si realizzerà, grande è la forza che ci diamo, la forza che ci dice che benedicerà per sempre. Grande è la voglia di lottare, la voglia di cambiare, l'Italia che verrà, noi siamo il popolo della libertà. Noi siamo il popolo della libertà. Gente che ama la gente, che non prova invidia, che odiare non sa, gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà, che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende e non si arrenderà, che lotta sempre per la verità, è questo il popolo della libertà. Grande è il sogno che ci unisce, un sogno grande che si realizzerà, grande è la forza che ci diamo, la forza che ci dice che benedicerà per sempre. Grande è la voglia di lottare, la voglia di cambiare, l'Italia che verrà, noi siamo il popolo della libertà, noi siamo il popolo della libertà.